Buonasera a tutti sono Luigi onaracus e per il video è benvenuto su The New Battle Unificato Ed eccoci qua finalmente all'analisi dei due nuovi personaggi del KK Oh, questi KK ci hanno portato due PG di cui uno al 100% entra nella top 3 delle migliori LR Ma mi avviso anche nella top 2 Il secondo più lo provo e più mi dà qualche soddisfazione E mi fa pensare a altre cose tipo che si becca d'anno giocato primo Però ci può stare, ci può stare Ma che di sicuro entra nella top 5 Devo decidere se entra nella top 3 E parliamo proprio di loro Un'unità tanto discussa perché è un'unità che prende tanto degli scorsi 2KK No, scuola, dello scorsi 2KK e dell'anniversario Perché prende un po' dei Blue Boys, un molto moltissimo da gamma Di cui è una versione migliorata E presenti il trio dei Super Saiyan Ma andiamo ad analizzarli nel dettaglio Abbiamo due forme La forma Trio Super Saiyan e la forma Stand By Goku Leader, Desperate Struggle, Super Saiyan e Power Wishes 3K Sta al 170%, col 30% a Movidus a Connected Hop Leader, buonina, buonina, non è affatto male Beast non gioca in questa vida E loro non entrano nella lead di Beast Questo è probabilmente il più grande punto debole dei personaggi Che vanno quindi a creare un meta parallelo a Beast Quindi è anche un pregio, in realtà È anche un pregio Ma non giocare di Beast sotto di loro Dato che Beast rimane il miglior periodo del gioco Un pochino storce il naso Vediamo in parte 2 che non esca qualcosa migliore di Beast Che mi fa ricredere Però oggi, di sicuro La leader, seppur buona, è per carità Perché se prendiamo soltanto la 170% Ragazzi, giochi il mondo sotto questi qua Gioca il mondo Se prendiamo al 200% avete un pochino più da dover scegliere le unit Però, però funziona Peccato anche che Broly nuovo non giochi sotto di loro Perché non ha Super Saiyan come categoria Peccato Special a 12 ki, aumento dell'attacco E riduzione di attacco e difesa all'avversario A 18 ki, aumenta di molto 15% attacco e difesa per 3 turni E aumenta l'attacco e difesa di tutti gli alleati al 30% durante il turno Sono quindi pensate con la 18 ki per essere giocati primi Andiamo però a vedere la passiva e se è fattibile giocarli primi 3 ki e 200% stati La base, se avevano meno, ce la da incazzarsi Cambia le orb di un certo colore Fisiche escluse, in fisiche Ottimo Abbiamo facilità ad andare in 18 e in 24 ki Spoiler, è perma 24 2 ki per ogni sfera ottenuta 2 ki aggiuntivi per ogni sfera fisica ottenuta 1 ki qualsiasi per ogni altra sfera Quindi con 4 orb fisiche va in 24 E con il resto ce ne vogliono 6 Ok Tutti gli alleati hanno 3 ki e 15% attacco Lui è escluso Prima parte di buffer Un pochino particolare Lui non si autobuffa ma buffa gli altri Ok Può starci Peccato 15% attacco poteva starci ma ci può stare Cosa particolare Se riceve una special Damage reduction più 30% Meccanica unica Quando Non solo su questo pg ad oggi Nel momento in cui riceve una special Lui aumenta la sua damage reduction Quindi è molto Penso per essere giocato primo Dove vengono prese a oltranza ammazzate Buono perché Tanca molto bene le special Un pochetto meno gli attacchi Ma le special le tanca decisamente bene 30% di difesa per ogni 3 ki che ottiene Questo vuol dire che funziona la rosè Ogni 3 ki che aveva molti ore bonus E imperma 24 Quindi C'è un 50% attacco bonus Quando prende il 12 o più ki Buono anche questo Due addition Con il 50% ognuno di essere special Con la 18 ki Peccato Perché Purtroppo hanno messo la 12 ki Aumenta solo l'attacco Aumentava anche la difesa Sarebbe stata molto interessante Questa parte Invece se va a fare qualche dannino in più Spoiler anche su questo Non vi aspettate i danni Scesi in terra Non è un broly Non è un cell max Non è un beast È più una unit di supporto difensiva Molto buona ma di supporto difensiva A 24 ki abbiamo attacco super efficace E sempre in 24 Quindi buildiamolo in additional E se avete un muviros O del pro struggle Nel turno Nel turno Avrà 15% di damage reduction Che quindi è la sua base E per due turni Tutti gli alleati Hanno 77% Di difesa bonus E quindi un buffer E quindi un buffer Che avronde voi lo giocherete Sempre In muviros O del spread struggle Il che purtroppo Vi dà il problema Che Siete un pochino Carenti Se lo giocate in un pur Super Saiyan O in un puro Povero wishes Perché questa parte Della passiva Per attivarsi Ha bisogno comunque Di questi due categori In turno Io bisogna stare molto attenti Con il team building Con lui Perché è molto buono Leader di molte Carte buone Se in turno Non ha almeno uno di questi Perde tantissimo Perché lui serve Da motore Di difesa del team Lui è obbligatorio Che attivirà A parte di passiva Non tanto per il 15% Di damage reduction Perché cambia poco Ragazzi Le buscherà dai pugni Pre special soprattutto Quindi state attenti Quanto Quanto per questo 37% Agli altri Che cambia un pochino La storia Cambia un po' la storia Come ho detto Dai pugni Purtroppo le busche Non ha guardia Non ha damage reduction Se non In questa parte di passiva Che è un 15% Quindi la toccate poco State attenti Dove li mettete Perché potreste Vedere brutti i numeri Con i pugni Che riceve Post special Cambia già la situazione Abbiamo una stand by Abbiamo una stand by Attivabile quando avete Meno del 76% di HP O dal quinto turno In questa stand by Diventano Goku E avrà un meter Che aumenta Di 3 punti Per ogni attacco ricevuto Di 2 per ogni orb Fisica presa Dagli alleati E di 1 per ogni orb Non fisica presa Andiamo a vedere Cosa fa Goku Goku Non può lanciare Special Quindi è Praticamente Una versione Difensiva E il vegeta Degli Zeta Boy Quindi l'unica special Che può lanciare Il suo finish effect Qua c'è la problematica Principale Di buildare Questi IPG Mi spiego Questa parte Della unit Si muoverà Totalmente Sulla finisher Che fa un botto Di male Se buildati IPG Full additional Questa finisher Non critica Quindi Se voi Mirerete Questo dipende molto Da che account avete Lo vedete in questa rana Ad esempio Siamo contro Gokuza Della Redzone Dell'universo 7 Un evento Bello tosto In un team Fatto apposta Non ci è servito A full abili Vabbè Tutto full abili Eccetera Però non ci è servito Usare lui Se Avete un account In cui a fare gli eventi Questa stand by E in più Perché avete gamma E giocate gamma Avete altra roba Billate addition Altrimenti critico Perché questa finisher Come vedremo Farà tanto male 3 ki Attacco Il 5% Guardia attiva Buono Cambia le int In fisiche Buono Poteva essere meglio Questa è la parte Che non mi piace Della passiva Mi prende a trasformare Un colore a caso Assuma le int Sfiga non trasforma nulla Peccato 2 ki per ogni orb Fisica Un ki per ogni orb Non fisica 30% di difesa Per ogni Quando riceve un attacco Per ogni 3 ki E se ha 24 ki Damage redaction Il 59% 20% di difesa Per ogni orb Presa E 7% di difesa Per due turni Per ogni orb Fisica presa Cavolo Seva l'Ormanipulator Fatto bene Come la sua forma Prima Quanto faceva 100% attacco Al lancio Della finisher La finisher È di due tipologie La prima Aumenta l'attacco Del 15% Per ogni charge Si attiva con 40 O meno La seconda Aumenta del 20% Si attiva con 41 O più Allora Perché Sono indeciso Sulla posizione Di questa unit Perché la unit Di per sé Ragazzi A differenza Di quanto Abbiamo detto Eblasi Ma entrambi Abbiamo cambiato Idea Provandola Durante la live È un'ottima unit È fatta bene È buona Fa quello che deve fare È però una unit Che nel suo essere top Come top unit È molto mid Mi spiego Siamo nella parte alta Top 10 Top 10 pc Del gioco Di sicuro Ma mi avviso Alcune caratteristiche In questa top 10 La rendono mid Top 10 Non up O low Ovvero Si può tankare bene Si può far tante cose Ma è molto legata A determinati Determinati settori E per i super Perché poi potreste dirmi Eh ma anche broli È determinati Alcuni settori Ma broli è extreme Ragazzi Broli è un fottuto extreme C'è uno decente L'anno di extreme Più o meno I super hanno molti Più pg Hanno molti meno problemi E questo Per fortuna Gli ha dato un nome Che lo può essere giocato ovunque Però Capite Non gioca con beast Salvo andare a farsi Team comp In cui hai un altro leader Quindi giochi mono di lui E mono di beast Nella forma base Deve giocare Insieme al turno Con un determinato pg Altrimenti Sognatvi che attiva Tutta la passiva In questa forma Comunque se l'ho buildato In un modo Allora questa forma Sarà meno efficace Altrimenti Sarà meno efficace Un'altra forma Quindi come buildarlo Come mirare Cioè È un pg Buonissimo Top 5 Di sicuro Molti dicono Top 3 Molti dicono Beast Broli Loro Io l'oro Ancora Faccio un po' Fatica Voglio aspettare La parte 2 Direi che per fine mese Potremmo farla Una top Potrei Giostrarmela A fare una top Totalmente Però senza calcoli Di quello che penso io Lui purtroppo Non lo vedo ancora Abbastanza in alto A stare nella top 3 Per il semplice fatto Che La vedo Con tanti limitazioni Che mi fanno dire Ok Forte quanto vuoi Ma se devo giocare Determinate missioni In cui ti ho formato Una composizione In un determinato modo Perché giocare lui? Oltre il fatto Che sì Io l'ho provato Full ability Ma l'ho provato Anche ability free Ability free Cioè Broli Sui dannini Li fa ability free Lui ad ability free E' carino Fa danni Dove si spara Che si becca la specie Alla volta Alla volta Quindi Comunque Alcune criticità Cioè Nonostante Tra i 5 migliori PC del gioco Direi che ci sta Quando le cose Van bene Un buffer Per il team In maniera imbarazzante 77% Di difesa Per due turni Stando lui in rotazione Vuol dire che tutto il team Beneficia di un boost Difensivo Che non si era ancora visto Nel gioco Questa è tanta roba Il problema principale Che si invecchierà presto E passerà in terzo slot Perderà più di metà Del suo utilizzo Perché in terzo slot Lui già Già perde tantissimo Ragazzi Quindi Vediamo un attimino Come si evolverà Per un valore complessivo Aspettiamo la parte 2 Detto questo Voi cosa ne pensate Se l'avete trovato In quante copie Io ne ho trovato uno Me ne accontento E noi ci vediamo Al prossimo video Al prossimo video